bella youtubers io sono and ed eccoci alla quinta parte di mad father finalmente in questa parte concluderemo qualcosa di nuovo allora ho salvato il database dei virus di avast è stato aggiornato e me lo fanno apposta comunque andiamo al laboratorio a salvare padre che è successo maria c'è solo maria signorina sei ferita ma starò bene dimenticati di me fuggi da in qualche posto sicuro è pericoloso qui dove è padre l'ho sentito urlare dalla mia stanza devo salvare il dottore puoi andare in giro con quella ferita ma maria e cosa è accaduto a padre il dottore è andato più avanti sua moglie lei sua moglie mia mamma che cosa intendi maria maria morta anzi o cielo sembra che si è svenuto oh lo straniero degli occhi rossi tu again tu again tu di nuovo ad ogni costo sembra proprio che tuo padre è andato avanti ci scommetterei di tutto che tuo padre è andato avanti in fondo nel nella nella labirinto giù nel labirinto sotterraneo che cosa ha visto maria mamma è andata è morta è andata via morta giusto cosa sta succedendo non dirmi che è la maledizione solo tu sei in grado di confermare i tuoi sospetti andando avanti andando avanti quando parla questo mi confondo poi questa musichetta che è un personaggio inquietante che succede mo? ah ecco posso muovermi posso muovermi allora maria è andata a farsi benedire cos'è... vabbè sacchetti di... puzzolenti di vesti umani e non quindi andiamo avanti wow padre di sanguinare la tetta wow mamma sei tu aspetta non è possibile era davvero mamma ma perché era mamma ma perché era mamma deve essere la maledizione giusta non te ne sei accorta? e questo da dove spunta? questa tragedia è stata portata dalla maledizia... dal potere della maledizione di una donna la malizia... per tuo padre la malizia che ha trasformato... che si è trasformata in maledizione cercando... cioè... cercando la morte di tuo padre ma... quello può... quella donna essere? così lo hai capito sì... tua madre non può essere perché lo pensi? perché mamma amava papà padre mamma capiva sempre il lavoro di padre e poi la mamma ricambiava il suo amore ma mamma non era felice non posso credere... aveva dei risentimenti contro il padre ma... forse mamma... non... la mamma piaceva no? padre... padre e marito no? 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 non voglio... non voglio credere che sia vero no? 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 ma... così andrei a vedere... a trovare la verità e c'era lì una cosa da prendere e tu mi hai fatto andare avanti testa di... cocomero torna indietro a prendere la cosa aia germa germa ok possiamo andare ora mmm manca una... chi ha perso la testa? mi sa tutti dove... dov'è? il mio... corpo ehm... hai l'imbalazzo della scelta ah... eccolo vai a prendertelo niente... spazzatura 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 qua dove si va? troppo buio non mi piace qua dove si va? troppo buio non mi piace andiamo qua che ho sentito il volo dell'uccello eccolo salva e andiamo niente 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 scala la pokemon niente 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 però devo tornare per forza indietro o andiamo avanti esplorare indietro o avanti avanti che bello il suono di quando si salgono le scale basta analizzarlo andiamo ho aperto la porta uh ah allora tutto questo serviva per andare dove dovevo andare uccello fammi salvare uccello grazie uccello vediamo 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 antico si per forza devo mettere a mano ok vai sali con il tuo rumore trun 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 tink 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 vai tink tink ah merda ok oh io sospetto che bisogna buttarlo di sotto esatto sono un genius andiamo questo è cos'è una mini motosega dentro un vaso allora pes la chiusura di 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 c'è special key o c o è la c o la shift con firma key z enter space oh questo è nostalgico ricordo quando padre mi rimproveravo che perché giocavo con questo oh merda che succede giustamente una bambina si mette a giocare con la motosega aia aia cosa stai facendo perché stai facendo volteggiare quella in giro scusa padre questo non è un giocattolo veramente pericoloso capito mai giocare con questo non giocare più con quello di scusa padre sono felice non sei ferita vabbè questo odd non ho mai capito che cosa vuol dire non nasconderò dove tu non possa mai trovarlo raggiungerlo dove diavolo hai trovato aia mi spiace mi spiace padre andiamo a giocare con la motosega posso andare avanti si ora posso combattere uccello fammi salvare che devo combattere che è successo oh che succede sono caduto come se qualcosa mi avesse afferrato la gamba no 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 che devo fare sono trascinata via dai 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 musica action quando si funge è la motosega non mi fa più accedere al menu dai fammi tirare fuori la motosega dai voglio la motosega io al motosega voglio usarla per combattere contro il cane se non me la fa usare no non mi dire che già l'ho scaricata come un pirla non so se si scarica come si ripara come si ripara no ma perché ci sono andato addosso che torniamo lì anche se c'è la scorciatoia voglio andare di qua per vedere se qui cosa c'è tutto distrutto niente 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 ah un secchio di regno ma questo mi sa che è oh che schifo una bottiglia con un occhio io vorrei sapere tutte ste robette cosa 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 mi serviranno mai posso uccidere lì muori no non posso muori 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 stai lontano ti prenditi la tua testa qua è la tua testa qui qui vieni vieni la tua testa mi sa che ho fatto sbagliato trovato te la ritaglio vedi se mi attacchi grazie signorina ah prego la testa te la sei messa un po' male ma vabbè i mostri mi sa che non li posso attaccare questa motosega ah posso distruggere i barili seee muori barile muori barile muori barile muori barile una motosega posso usarla per uccidere i barili tu chi sei tu uccido no uccido i barili gemma tu chi sei no lei è ancora più pazza del dottore ma su via di che cosa dovrei essere preoccupato suppongo non ho capito una hack ma va bene è qui va 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 se può passare lì qua con questo bel suonanzimante vedo qualcuno no ma quello è quello è il protagonista di The Witch House Aspetta vediamo se ci vede meglio Ho a parte una cat Sì è lei È lei Vabbè ci parleremo nella prossima puntata Alla prossima Ciao